Farà tappa anche alla Spezia martedì prossimo 10 ottobre la 17esima edizione della Gran Fondo Ciclistica dei Trapiantati promossa dall'Aido e dagli amici del Trapianto del Fegato in collaborazione con il Comune. La manifestazione prenderà il via domenica da Cremona per concludersi sabato 14 a Siena. Il fatto che faccia tappa alla Spezia come arrivo e partenza è la prima volta in 17 anni. Ci saranno due momenti, uno in Piazza Verdi appunto con saluto all'autorità della Cremona di Premazione e uno molto importante mercoledì 11 con le scuole, con i ragazzi del Fossati da Passano dove noi affronteremo i tempi appunto del valore della donazione, della solidarietà e del Trapianto. La carovana arriverà in Piazza Verdi martedì alle 16.30 e a seguire è previsto un incontro aperto alla cittadinanza con il sindaco e gli assessori allo sport, alla sanità e alle politiche sociali. Un momento di approfondimento nel corso del quale saranno fornite informazioni sulla donazione degli organi con testimonianze da parte dei trapiantati. Da anni nella Spezia facciamo questa attività nelle scuole e questo quindi è un momento importante per continuare questo sviluppo della cultura di solidarietà. Chi volesse iscriversi all'Aido noi siamo qua in via Valle 16 aperti dal martedì e giovedì e ci fa piacere se ci venite a trovare per approfondire dei importanti temi come il trapianto e la donazione. Siamo contenti che la Spezia comunque sia stata considerata così importante in un evento così di carattere nazionale. Un evento quindi non soltanto sportivo ma dai molteplici significati. Un messaggio di speranza per chi soffre, per chi tanta volta ha bisogno, per chi avrà bisogno perché non dobbiamo dimenticarlo che i trapianti vanno a ridare una vita alle persone che hanno dei problemi di salute importanti. Si possono fare tante cose una volta trapiantati e proprio la gran fondo e la testimonianza di questo. Un messaggio a tutti, un messaggio di riflessione, indipendentemente dalle proprie convinzioni e propri valori, bisogna riflettere su questo tema e eventualmente aderire alle campagne di donazione organi perché è veramente una gioia dare una speranza a chi non l'ha più.